Una sede per il centro salute mentale, la richiesta dell'ASLA di Avellino al comune di Ariano Erpino. In seguito alla necessità di effettuare lavori di riqualificazione e ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane della città del Tricolle, l'ASLA ha dovuto procedere con lo spostamento in un'altra sede del centro di salute mentale, in quanto è situato nei locali vicini al pronto soccorso. Gli esperti dell'ufficio tecnico e del dipartimento di salute mentale hanno dunque effettuato un sopralluogo all'interno dell'ospedale stesso, ma è stata accertata l'impossibilità di reperire nella struttura gli spazi idoni al servizio che offre il centro di salute mentale, come si legge nella nota dell'ASLA di Avellino. L'azienda sanitaria dunque ha fatto richiesta al comune di Ariano Erpino di una sede. Palazzo di città ha indicato alcuni locali, situati in un seminterrato dell'edificio dove si trova il distretto sanitario del Tricolle, che in precedenza ha ospitato un'associazione di volontariato, la quale però ha poi lasciato la sede non considerandola idonea. I tecnici dunque hanno effettuato un sopralluogo e l'azienda sanitaria ha riscontrato la mancanza di quei requisiti necessari per il centro di salute mentale, non ritenendo la sede dunque idonea all'uso richiesto. Ed ecco perché l'ASLA di Avellino ha chiesto al comune di Ariano di indicare un'altra sede, con la ferma volontà di non localizzare il centro in spazi al di fuori dei confini comunali. Grazie a tutti.